Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono ZB65 e oggi siamo qui su The Legend of Zelda Breath of the Wild Allora, prima di lasciare l'alto piano delle origini andiamo a vedere ancora questo punto qui praticamente Per chi ha acquistato il DLC e solo chi ha acquistato il DLC ha a disposizione il pass di espansione Praticamente il pass di espansione consiste in tre scrigni contenenti oggetti speciali e esclusivi E si trovano sull'alto piano delle origini, quindi io farei che prendali prima di lasciare l'alto piano delle origini E andare avanti con la nostra avventura Dunque, non influenzano l'andamento della storia Praticamente poi il resto del DLC è molto più interessante di questi tre scrigni Comunque abbiamo altra roba che adesso vi faccio vedere passando veloce Abbiamo i tesori di Lambda La maschera Koroogu Amuleto del teletrasporto Cammino dell'eroe E la modalità Master Come la prova della spada Come le prove leggendarie Il pacchetto DLC 1 uscito a giugno 2017 Dopodiché abbiamo Bardatura ancestrale Tesori preziosi E la ballata dei campioni Il pacchetto DLC 2 uscito a dicembre 8 dicembre 2017 Non usciranno più DLC purtroppo di questo gioco Comunque Il DLC è acquistabile a parte A 19,90€ se non sbaglio Ed ha diritto a tutte queste cose Adesso noi vedremo la prima Che è gli oggetti del pass di espansione Che questo è disponibile dal 3 marzo 2017 Quando è uscito il gioco praticamente Andiamo a vedere dove si trovano questi tre scrigni Allora Il primo scrigno Ci teletrasportiamo al Sacrario di Mawona Ok siamo al Sacrario di Mawona Il primo Sacrario che Sblocchiamo nel nostro corso Nel corso del nostro gioco E qua Questo scrigno Che si differenzia dagli altri Per la scritta X sopra Conterrà Un robino Ed è il primo dei tre scrigni Dell'espansione Il secondo scrigno lo troviamo Qua Eccoci arrivati Sacrario di Tou Misoke In questo punto qui L'ultimo Sacrario che abbiamo sbloccato Sull'alto piano delle origini Ok da qui dobbiamo praticamente andare Dietro Al Sacrario Al Sacrario E troveremo lo scrigno Qua Eccolo qui Contenente 5 frecce bomba Come vedete Scrigno con scritto X Terzo e ultimo scrigno Il più interessante E' qui Eccoci arrivati Siamo Al Sacrario di Jabashif In questo punto Della mappa qui E Il nostro scrigno Sarà di sopra Possiamo Tirarlo giù Direttamente Col calametro Ed ecco che Al suo interno Troviamo La maglietta Maglia Nintendo Switch La vediamo subito Non ha niente di La indossiamo Non ha niente di particolare Nel senso Difesa 1 Come vedete Non si può potenziare Però E' una soddisfazione La scritta Nintendo dietro Davanti il simbolo della Switch E sotto la scritta Nintendo Switch Ok Questi erano i tre scrigni Della Dell'altopiano delle origini Del pass di espansione Anche con questo video Ciao Ciao Grazie.